Siamo sotto traccia, dico io. Dobbiamo anche dire un grazie al responsabile RMT di questa manifestazione. Domenico Frasci, grazie Domenico. Grazie a tutti quanti voi, è stata una splendida giornata. Grazie al Comitato Regionale Puglia, al suo Presidente Mino Costabile. Grazie a Maurizio Costanzo, a Maurizio De Pasquale perché ormai per noi è diventato il nostro Maurizione. Ringraziamo il Tempio del Passato, il Vespa Club di Palo del Colle. Ringraziamo tutti quanti voi, ci diamo appuntamento a San Ferdinando di Puglia il 15 ottobre. Signore e signori, ben rientro a casa, casco in testa, luce accese e anche di giorno sempre attenzione. Salute a tutti e buon appetito e buon rientro. Bye bye! Arrivederci!